Buongiorno a FTI Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, abbiamo infatti il Fuzimib che si riporta a toccare un massimo a 20.870 punti, in questo momento siamo però già ridiscesi intorno ai 20.700, quindi molto più vicini ai livelli di chiusura di ieri che erano intorno alla parità sui 20.600 punti, situazione non facile per la borsa, andiamo a guardare un attimo qual è l'evoluzione della crisi perché purtroppo in questi giorni a volte a guardare i grafici bisogna assolutamente tenere d'occhio l'andamento del rapporto tra la politica italiana e quella europea perché è quello che ci condiziona, guarderemo tra poco anche l'andamento dello spread, questa stessa pagina la trovate pubblicata anche sulla nostra pagina Facebook dove trovate come sempre anche altre informazioni relative all'andamento dei mercati, quali sono i tratti salienti che sono emessi nelle ultime ore, innanzitutto il governo si riunirà oggi verso l'ora di pranzo per definire le nuove cifre da mettere nel DEF, di che cosa si parla? Il governo ha confermato il target deficit PIL al 2,4% per il 2019, mentre questo rapporto potrebbe scendere al 2% nel 2020 e al 2% nel 2021, infatti secondo il Corriere della Sera nella nuova versione della manovra dovrebbe essere previsto il taglio al 2% nel 2021, pertanto diciamo che questa partita di tennis a distanza tra governo italiano e Unione Europea sta andando nella direzione che avevamo immaginato, ne avevamo parlato anche ieri nei commenti al video, si tratta ovviamente di una trattativa ad alto livello ma che ricorda un po' il mercanteggiare al quale ci hanno abituato le istituzioni ormai da tempo, si arriverà probabilmente a una situazione di compromesso dal momento che ovviamente nonostante è quello che dicono gli organismi europei, l'Italia non è certo la Grecia e non può essere trattato ovviamente come tale, pertanto ci sarà probabilmente, lo speriamo tutti da un punto di vista di andamento borsistico, un aggiustamento che soddisferà tutte le parti, infatti ieri Giuseppe Conte ha dichiarato abbiamo lavorato per disegnare la manovra in modo di accelerare la discesa del rapporto debito-pil in modo consistente nell'arco del triennio, quindi un messaggio assolutamente tranquillizzante, infatti che cosa vediamo oggi? Vediamo uno spread che ieri era salito sopra i 300 punti, ridiscendere intorno ai 2,90, di certo l'allarme non è passato però da questo grafico si capisce molto bene, questo è un grafico a candele giornaliere, quanto sia importante il quota 300, è stata toccata in tutti i momenti di crisi degli ultimi mesi a partire dal mese di maggio, ieri era stata momentaneamente sfondata, dal momento che io ritengo che sul grafico dello spread si possa fare l'analisi tecnica esattamente come si può fare sul grafico del Bund e del BTP, il superamento dei 300 punti comporterebbe un rialzo di almeno 180-190 punti, quindi si rischerebbe di arrivare molto vicino a quota 500 se effettivamente l'area 300 dovesse venire abbandonata, non è ancora assolutamente detto che questo rientro sotto i 300 punti sia definitivo, infatti a preoccupare in questo momento è sicuramente l'andamento del BTP future decennale piuttosto che dello spread, ne abbiamo parlato diffusamente negli ultimi giorni, questa era la seduta di ieri che aveva visto una chiusura 122,70 quindi sotto questa importante linea di tendenza di cui abbiamo già menzionato l'importanza recentemente, oggi siamo tornati più o meno sui livelli della linea, però attenzione perché questo è un muro al di sotto del quale se il BTP dovesse scendere si profilerebbe un quadro grafico decisamente pesante con il rischio di dover considerare questa fase un pennant che ci proietterebbe obiettivi sui 110, 111 Euro, pertanto siamo ancora al limite sia con il BTP che come abbiamo visto con lo spread sul BTP Bund. Oggi c'è un bel rimbalzo alle banche, quanto sia credibile questo rimbalzo è difficile dirlo, volevo come al solito giustificare il fatto del perché stiamo guardando come sempre questi titoli bancari, nella giornata di ieri vedete questi sono i dati che riguardano Intesa e Unicredit, Intesa San Paolo ha scambiato per il 16% circa del totale del mercato e Unicredit per l'11%, quindi da soli questi due titoli hanno fatto il 27% degli scambi circa, Banco BPM invece che è l'altro titolo che andiamo a guardare oggi ha scambiato circa per il 3%, quindi da soli questi tre titoli hanno fatto ieri il 30% degli scambi. Il motivo per cui si guardano le banche, oltre al peso che hanno ovviamente è la diretta correlazione tra l'andamento delle loro quotazioni e quelle del mercato obbligazionario che in questo momento è sotto stretta osservazione, vediamo che Unicredit è rimbalzato dai minimi di inizio settembre, se torniamo rapidamente un attimo a guardare anche il grafico del Fuzzimib, in questo caso in 3D vedete che il rimbalzo di ieri è scaturito proprio dal test dei minimi in questo caso dell'ultimo giorno di agosto, ma sostanzialmente il riferimento grafico è lo stesso, quindi siamo scesi sia con l'indice che con il titolo Unicredit su una soglia che è un po' al punto di non ritorno, se dovessimo scendere al di sotto di questi livelli che sono esattamente il minimo di quota 12 e 35, ci sarebbe veramente da avere paura perché vorrebbe dire che questa fase laterale che ha caratterizzato i mesi di giugno e di luglio è stato un rettangolo, fase di continuazione del precedente ribasso, è vero che il target del rettangolo più o meno lo abbiamo già raggiunto, si prende la proiezione della figura e si proietta verso il basso, vedete ieri praticamente è stato raggiunto il target del rettangolo, ma è anche vero che spesso queste figure di continuazione si collocano a metà di un movimento, quindi se andiamo a proiettare quello che c'è stato prima e anche in ottica solo conservativa, lo riproponiamo dalla parte alta del rettangolo, vedete che si ottengono obiettivi a 10 e mezzo circa, obiettivi più aggressivi verrebbero invece ottenuti proiettando l'ampiezza del movimento precedente dalla metà del rettangolo circa e addirittura in quel caso si scenderebbe sui 9 Euro, quindi capite bene che l'abbandono del supporto di area 12,30-12,35 potrebbe rappresentare una vera e propria debacle per il titolo unicredit ma in base a tutto quello che ci siamo detti fino ad ora per il mercato nel suo complesso. Quanto è credibile il rimbalzo di oggi? Questa è la domanda che tutti si fanno, scommettere o meno su una ripresa duratura delle quotazioni, direi che vista l'evoluzione molto fluida del quadro politico è impossibile dare una risposta a questa domanda, io come ho già detto ieri durante il video e ribadito nei commenti, ritengo che ci sarà una risoluzione di questi forti contrasti che sono nati tra Unione Europea e governo italiano e alla fine verrà trovato un compromesso che soddisferà tutti impedendo ai mercati di cavalcare l'onda dell'assalto alla diligenza dei BTP italiani, quindi io penso che un rimbalzo anche duraturo sia credibile, ovviamente prima di comprare su questi livelli titoli come unicredit o intesa che andremo a vedere tra poco, ci vuole una propensione a rischio abbastanza elevata, bisogna essere consapevoli del fatto che si rischia molto, la volatilità è abbastanza alta, andiamo a vedere la volatilità storica di unicredit in questo momento, se la andiamo a vedere quella calcolata a 60 giorni, vedete siamo arrivati al 31-32% circa, quindi decisamente elevata, per darvi un'idea quella relativa al mercato è circa la metà di questi valori, pertanto volatilità storica elevata significa rischiosità elevata, se si decide di comprare un titolo come questo nel momento attuale va fatto con prudenza, adottando degli stop loss rigorosi e in questo momento secondo me lo stop loss continua a essere prudentemente area 12,30 e con un margine di capitale abbastanza ridotto rispetto al totale, potrebbe esserci comunque un bello spazio di rimbalzo perché vedete ho evidenziato qui i due gap che si sono lasciati alle spalle i prezzi, il 28 e il 27 settembre, il primo ha un lato superiore a 13,52, il secondo ha 14,13 e sono quelli i primi target sui quali si potrebbe andare ad insistere con le cotazioni, se poi dopo i prezzi dovessero salire al di sopra di quest'altra resistenza che è il gap del 10 di agosto a 14,37, vedete una resistenza che si è dimostrata molto rilevante nel corso delle ultime giornate, infatti si è disegnato questo piccolo doppio massimo proprio a ridosso di quei livelli, allora sopra quell'area si potrebbe iniziare a parlare addirittura di un doppio minimo, quindi queste oscillazioni potrebbero rappresentare una base sulla quale costruire un tentativo di rimbalzo molto più evidente, chi compra su questi livelli quindi lo può fare con un obiettivo iniziale intorno ai 13,50, ma anche con la speranza, per il momento forse solo una speranza, ma che potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto, di vedere le cotazioni nel prossimo futuro tornare addirittura in area 16,50, pertanto con tutte le premesse e le incitazioni alla cautela che ho già menzionato, i più aggressivi possono sicuramente sfruttare già anche la giornata di oggi con la piccola flessione che abbiamo visto negli ultimi minuti per considerare acquisti su questi prezzi. Lo stesso identico discorso lo possiamo fare su Banco BPM, vedete che anche nel caso di Banco BPM c'è stato ieri il test dei minimi del 3 settembre, da quei prezzi il titolo è rimbalzato, la chiusura di ieri era stata registrata a 1,96, siamo a 2,02, quindi anche al di sopra del massimo di ieri che era stato toccato a 2,01,90, diciamo che il titolo ci sta provando, la prima resistenza e andiamo intanto visto che ne abbiamo parlato a vedere la volatilità anche di Banco BPM, quella storica calcolata a 60 giorni e anche più alta di quella di Unicredit, abbiamo visto che era del 31, in questo caso siamo quasi al 40%, quindi ripeto attenzione perché stiamo parlando di titoli estremamente rischiosi da un punto di vista statistico, questo però se da un lato come sappiamo rischio e rendimento sono le due facce di una stessa medaglia, quindi se il rischio è elevato anche il potenziale di movimento in nostro favore lo è altrettanto. Stavo dicendo, andiamo a vedere le medie mobili, in particolare la media esponenziale a 5 giorni che è il primo livello di resistenza con il quale i prezzi di solito si devono confrontare in una fase di rimbalzo, la 5 giorni passa in questo momento a 2,10, sopra quei livelli sarebbe credibile anche in questo caso un tentativo di andare a ricoprire questo gap che è sempre il solito gap del 6 di agosto con lato alto a 2,44, quindi capite bene che andato a comprare 2 Euro con un tag a 2,40, 2,45 c'è un bel margine di guadagno, mentre il loro stop loss è abbastanza vicino da posizionare subito di sotto di 1,89, quindi profilo di rischio dell'operazione estremamente interessante e rischiosità però elevata come vi ho già detto. Nel caso di Intesa San Paolo abbiamo un quadro leggermente diverso, se non avessimo visto i due titoli di prima saremmo forse più prudenti nel fare valutazioni sul mercato perché vedete come Intesa fosse sceso ieri molto al di sotto dei minimi di fine agosto, questa mattina però sono stati recuperati ampiamente perché siamo a 2,15 Euro, quindi il segnale negativo di ieri è stato in buona parte rimangiato, intesa rispetto ai titoli che abbiamo appena guardato a una volatilità intermedia tra Unicredit e Banco BPM del 35%, tutte queste informazioni relative a rischiosità e volatilità vi ricordo le potete trovare sul Megatrader che è il prodotto di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online, quindi vi esorto a tenere controllati questi valori perché quando si guarda si fanno operazioni di trading, si guarda spesso al profilo di rischio di operazione dimenticandosi però di altri parametri importanti che sono sostanzialmente il beta e la volatilità, quindi vi esorto a tenerli sempre sotto controllo, se ci sono domande relative a questi strumenti potete tranquillamente farle durante i video o come commento ai video di modo che sia poi possibile trattare l'argomento successivamente. Ritornando a intesa, vediamo che anche in questo caso c'è stata questa pericolosa violazione del supporto nella salute ieri, oggi è rientrato la nostra media mobile a 5 giorni esponenziale, passa a 2,21 euro, aspetterei quindi ancora un attimo prima di confermare l'idea di essere in un rimbalzo credibile sopra l'area 2,20 e 2,21, primo target a 2,33 euro, successivo invece a 2,43 euro. Vediamo prima di salutarci se ci sono domande da parte vostra, come vedi Falc, ci siamo con il rimbalzo con le banche a breve, mi sembra di aver risposto ampiamente a questa domanda, Expert System mi sembra interessante, allora scelgo di, visto che il tempo è limitato, guardiamo Expert System se lo riesco a trovare rapidamente e Falc invece gli diamo un'occhiata poi magari nell'appuntamento di domani. Vediamo se riesco a recuperare velocemente la quotazione di Expert System, qui abbiamo sul nostro Taderlink che il prezzo attuale intorno ai 1,38 euro, vorrei vedere se recupero rapidamente anche il grafico del titolo, se non lo trovo in questa cartella magari anche questo lo andiamo poi a guardare nella giornata di domani, invece qui l'abbiamo recuperato, abbiamo detto che siamo intorno a 1,38, quindi dopo il bel rialzo di ieri che ci ha portato fino a 1,41, chiusura 1,37 e mezzo, siamo in leggero guadagno rispetto alla chiusura di ieri, è appena partito un rimbalzo, graficamente il titolo è molto interessante, penso che siete tutti in grado di vedere la costruzione di questo doppio minimo che si è venuto a creare a partire dai minimi di maggio, la resistenza critica, quindi il lato superiore del doppio minimo sembrerebbe essere stato superato già anche nella seduta di ieri, quindi oggi c'è una conferma della rottura di quei livelli, direi che graficamente è sicuramente interessante il titolo nel breve termine, il target, adesso andiamo a vedere qual è il target del doppio minimo, per capire se ci potrebbe portare il rialzo attuale a contatto con il lato alto di questo bel canale ribassista, che ovviamente la cui rottura sarebbe molto importante, il canale parte nei massimi del 2015, la sua base ha contenuto tutti i minimi, in particolare molto importante questo del 16 di luglio, il target del nostro doppio minimo si calcola molto semplicemente prendendo l'ampiezza della figura e proiettandola verso l'alto, il target si pone a 15,55 Euro, la linea di tendenza, quindi fino a quei livelli potremmo arrivare con una relativa facilità senza incontrare grosse resistenze, il vero banco di prova per il lungo termine sarà ovviamente il lato alto del canale, se i prezzi sapranno andare anche sopra 1,65, 1,67 si potrà parlare di una vera e propria inversione di tendenza di medio e lungo termine, come sempre quando ci sono movimenti di rottura di una figura come quella che abbiamo segnalato, questo doppio minimo, molto importante controllare l'andamento dei volumi, ieri i volumi sono stati in netta crescita che ci conferma la validità del segnale, pertanto direi che salvo imprevisti dal punto di vista delle notizie, questo potrebbe essere un trade assolutamente interessante, lo stop loss lo andrei a posizionare subito a di sotto di 1,34. Se volete approfondire le tematiche dell'analisi tecnica, vi ricordo che FTA fa anche dei corsi di formazione, ne abbiamo appena pubblicizzato uno che sarà tenuto nella fine del mese di ottobre sulla nostra pagina Facebook dove potete trovare quindi informazioni in merito. Detto questo vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.